Dal monitoraggio alla prevenzione ambientale, dalla repressione degli incendi alla tutela della flora e della fauna, con diversi casi di maltrattamento di animali e bracconaggio denunciati, e poi indagini sulle discariche, rifiuti e l'inquinamento, eclatante il caso di Bussi. Un 2018 ricco di attività importanti, chiuse positivamente quello del Comando regionale dei Carabinieri Forestali di Abruzzo e Molise. Attività che proseguono di pari passo e nonostante le trasformazioni in corso con la transizione del Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, avviata già un paio di anni fa per effetto della riforma Madia. Abbiamo due treni in corsa che naturalmente per dare il servizio al cittadino non si possono fermare, quindi devono assolutamente continuare la loro corsa, ma allo stesso tempo devono raggiungere tutti lo stesso obiettivo e andare tutti sul stesso binario. Quindi ci vuole il giusto tempo perché dobbiamo rispondere in primis al cittadino e poi naturalmente allinearci sulle nuove procedure che il Comando generale ci dà. Il quadro delle attività del 2018 è stato illustrato questa mattina nella sede del Comando regionale all'Aquila. Sono stati 935 gli illeciti penali e 3639 quelli amministrativi individuati per un valore di 2 milioni e mezzo di euro. Tra le attività investigative di rilievo spicca quella sul contrasto della dispersione delle plastiche con il sequestro di milioni di cosiddetti shopper monouso tra l'Abruzzo e il Lazio proprio in questi giorni. Questa attività aveva rimarcato il coraggio della procura dell'Aquila per questa attività perché è stata configurata una violazione, una legislazione su rifiuti che non era facile quindi c'è un coraggio della procura, il dottor Picuti, il GIP che ci ha permesso di svolgere questa attività, questa operazione. Anche ieri abbiamo sequestrato diverse migliaia ancora di buste che sono in circolazione. è un'operazione che adesso si sta replicando sull'interno territorio. Abbiamo fatto un'attività di apripista rispetto alla vecchia interpretazione che finora si è data e in Italia diversi colleghi la stanno replicando. Ma al centro delle operazioni investigative c'è un'inchiesta in particolare, quella sulla tragedia di Digopiano. Le attività quindi stanno terminando e hanno portato un lavoro veramente difficile oltre che dal punto di vista emotivo anche proprio dal punto di vista della pesantezza del lavoro in quanto sono state sequestrate tipo due milioni di mail, abbiamo sentito più di cento persone a sommare informazioni. Che ricordo ha di quelle ore immediatamente dopo la tragedia? Il ricordo non è investigativo, questo ricordo. Il ricordo era la speranza di avere notizie contrarie a quelle che sembravano le notizie logiche ed è quello che ci ha accompagnato soprattutto nell'inizio e forse la parte più bella è stata il momento in cui sono stati ritrovati i primi superstiti ed è stato un momento che ci ha aiutato anche a andare avanti col lavoro.